Musica Musica Prego, prego Gianni, vai, raccontaci questa storia Una volta mi ha dato carta bianca, il giovedotto non mi guardava più nemmeno in faccia Mi sono pentito Non è vero, non è vero, eccoci qua, eccoci qua Senti Silvia, quello è una fiorata bellissima, questo forse è l'agentico più indicato Noi in questo momento ci sembrava giusto festeggiare 90 anni della Rotonda Dedicandolo soprattutto, dedicando un mezzo alle donne Perché fondamentalmente questo è un aspetto estremamente importante per la nostra città Ma soprattutto perché la Rotonda è donna E quindi era molto importante questa sera e quale migliore occasione E non legarla alla fine, alla fine, alla fine Sì, fondamentalmente alla fine Vedremo tante punte di donne Grazie a tutti 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 Grazie a tutti